Vi dirò che tra un po' verranno consegnati dei biglietti, delle penne e dovrete esprimere una parere, quindi se pensate che merita Stefano sarà il numero uno, se pensate Ilaria sarà il cinese Yao sarà il numero due e Ilaria sarà il numero tre, questi sono i tre finalisti. Prego Stefano Guarascio. Grazie. 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 Grazie.